E' un nodo importante quello del futuro delle province italiane. Si dibatte sull'opportunità di riformarle o addirittura di abolirle, riducendo i costi della politica e dell'amministrazione pubblica. A preoccupare in questa evenienza è il destino degli attuali dipendenti delle province, dei precari, così come degli specialisti con elevata professionalità, che servono le comunità locali. A Torino, per discutere delle conseguenze che potrà avere un'eventuale riforma delle province, è stato organizzato un consiglio provinciale aperto, nella sede di Corso Inghilterra. Hanno partecipato organizzazioni sindacali e centinaia di dipendenti dell'ente. Il presidente del consiglio provinciale, Sergio Bisacca, ha sottolineato come quella torinese sia stata la prima assemblea consigliare provinciale a riunirsi in seduta aperta ai lavoratori e ai sindacati per elaborare una proposta di mobilitazione nazionale. Si pensa di chiudere le province pensando ai costi della politica, che poi, come abbiamo dimostrato, sono inesistenti rispetto a quelle del Parlamento, del Senato, che dovrebbe essere chiuso. Ma in verità qui si parlano di 54.000 dipendenti che sono messi in mobilità e 1.700-1.800 da parte della provincia di Torino. È evidente che questi dipendenti fanno servizi apprezzati da tutti e quindi oggi abbiamo detto, abbiamo testimoniato ai dipendenti che vogliamo mantenere questo patrimonio di servizi fornito dai dipendenti attraverso il fatto che ci possa essere un ripensamento nazionale. Il presidente della provincia di Torino, Antonio Saitta, ha rivolto un appello alla mobilitazione contro quello che ha definito il grande inganno, che sta alla base della decisione di privare delle loro competenze enti garantiti dalla Costituzione. Ma ci deve sicuramente essere, come succede in Francia, come succede in Spagna e in Germania, perché ci sono delle competenze che non possono essere svolte dal singolo comune. Non è che il singolo comune può occuparsi della strada statale, della strada provinciale, all'asfalto. Non è che può occuparsi dei centri di impiego, della formazione professionale. Non può neppure occuparsi della regione perché è molto distante. Quindi c'è un ente che svolge quelle funzioni. Intanto l'attenzione verso i precari della provincia non viene meno. Anche in questi momenti di incertezza. Per loro la provincia ha trovato una soluzione, che garantisca il loro lavoro per tutto il 2012.